Dobbiamo andare ad uno, che è questo paese qui, sopra qui, sopra qui. 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 I numeri. I numeri. Che sono arabi. I numeri. Di nascita. Per chi non lo sapesse. Ecco qui. Bangeito. Sopra qui. Sopra qui. gesagt. Sopra. Cari amici, siamo a Duno, in provincia di Varese, al Santuario Motivo dei Medici d'Italia. Duno, il paese della provincia di Varese, in montagna, sono a Coveglio, in Vercuglia, a est di Cittiglio, di Laveno, della Comaggiore, e il Santuario Motivo dei Medici d'Italia, il terzo motivo ricorda le gesta buone che ti possono fare nella vita. Il bene per il prossimo, tutto nasce dal bene per il prossimo, quindi cosa si può fare per gli altri che sono altri di noi stessi? Tempio vuotivo dei Medici d'Italia. Duno, Valcuvia, Varese. Duno è un paese della provincia di Varese, in montagna, sopra la Valcuvia, sopra Coveglio, in provincia di Varese. Più che parole, più fatti, più che fatti, più che gesta per il prossimo. Se ci riusciamo a correre la domanda, possiamo anche trovare la risposta. Cosa possiamo fare per gli altri? Perché dobbiamo fare qualcosa con gli altri? Perché di solito noi, generalmente, vediamo tutto in maniera diretta. Cioè, quello che daremo, l'avremo in cambio, direttamente. Mai si pensa che noi possiamo dare alla società, e la società darà alla società stessa. Come, per esempio, la salute. Meno male che siamo in salute. Meno male, vi garantisco qualun'uno acqua buona e aglio buona, fruttare salute. Per chi non è in salute, ma noi dobbiamo pensare, siamo fortunati noi. Allora, ecco, chi non è in salute, deve avere le cure di cui ha bisogno. Mai una società che dice, chi non è in salute, eh, peggio per lui. Perché la società può arrivare a questo. Invece ci vuole una società per gli altri. Perché, se noi siamo in salute, è una fortuna, è l'amore di Dio. Se non siamo in salute, comunque è una prova della vita, che è la vita terrena. E la conquista è ciò che non possiamo dare loro. Noi, con le nostre sofferenze, se non fossimo in salute, è sempre un portare l'accrocio, un qualcosa che si può fare. Chi non è in salute per una cosa può comunque essere parte della società, perché può dare un buon esempio. Può poi, possibilmente, tornare in salute, però adottare gli altri. Chi non è in salute, che dicono, bisogna pagare le tasse per chi non è in salute. Se non paghi lui le cose, no? È giusto. Chi non saluta questa fortuna, grazie di Dio, è giusto che tutti badiamo anche a chi ha bisogno. Questa è la società. La società ci sviluppa, la società evolve. Quando pensare gli altri non è a se stesso. Naturalmente, la società deve essere anche strutturata in una maniera che dia l'opportunità di poter pensare al prossimo. Quindi, la società è aperta al prossimo. Nel dove, nel nostro piccolo, aperta al prossimo, in una società aperta al prossimo. Questo è aperta al prossimo. Qui è al prossimo l'altro, a cui possiamo fare del bene. Spero di aver fatto il discorso non tanto per vedere, ma per dimostrare. Dimostrare facili concetti. E com'è possibile che i facili concetti si dimenticano. Siamo curiosi al Tempio Motivo. In Medici d'Italia, ad 1, per esempio, provincia di Varese. 22 marzo 2017. Giornano Permini. Ricordiamo le cose buone. Anche abbiamo un esempio di chi è stato esempio per tutti. Adesso, guardate quante persone. Chi sono i nomi di tutte queste persone? Sono i nomi di tantissime persone che, adesso starle a leggere tutte, sarebbe lunghissimo. questo, però sono i nomi di tantissime persone che hanno collaborato a una società per gli altri, hanno collaborato socialmente, a livello sociale, a ciò che potevano dare, offrire agli altri. In cambio, la società basa alla società. Se noi viviamo una società aperta al prossimo, certo, non ci mancherà nulla. Quando non ci mancherà nulla, avremo allora questo cambio. Ma non deve essere per forza qualcosa. Non dobbiamo bramare di avere qualcosa in cambio. Dobbiamo volere il bene del prossimo. E ci arriverà in maniera automatica, ma nella giusta situazione, nella giusta situazione vitale. non è la bramosia di voler per forza avere direttamente qualcosa in cambio, ma una società che parte della stessa società. così ristrutturata, la società si sviluppa. E già, è bellissimo. Quindi tutti questi nomi di queste persone, sono i nomi delle persone che hanno lavorato comunque al prossimo. Adesso, potremmo in questo momento sapere il nome di ognuno e cosa ha fatto. dovremmo in questo momento, dovremmo in questo momento, dovremmo magari tanto tempo, però possiamo immaginarlo. e per immaginarlo ci vuole un istante. E immaginare, se davanti riuscissimo a capire la vita di queste persone che hanno fatto il bene per il prossimo, riusciremmo anche ad avere un buon esempio per noi a far il bene per il prossimo. Cose così semplici, altre direi devono essere dette perché la comprensione ha un nuovo inizio e anche un inizio di apertura sociale all'altro. nel senso più buono che possa esistere. Più buono è più semplice. Perché la semplicità a volte è la cosa più buona. tempio votivo dei medici d'italia. ad uno, Valcuvia, Varese. qui ho scritto qualcosina. 22 marzo 2017, Gennaro Giolmini, sentitamente tornato ad uno, nuovamente tornato al santuario dei medici d'italia. in pace e gioia, una felice giornata. è bella, bella, bella. bene così. bene così. bene così. bene così. bene così. bene così. bene. Marco Evangelista. Nel 2003 l'Assemblea dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoriatri della provincia di Varese ha deciso di dare nuovo impulso ad un'azione che era andata spegnendosi nel tempo E qui San Marco Evangelista. Un saluto ad uno. Grazie a tutti. Benefattori del santuario. Tantissime persone hanno donato. Grazie a tutti. 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 il primo aprile a livello storico e di fede e andremo ad Ophelia Donnini. Santuzza Santa Marcolini, anima eletta esempio d'abnegazione rapita da morbo crudele. Il 17-2-1926, con eterno affetto, la tua cara ed unica sorella Letra e il fratello Giovanni, a perenne ricordo posero. Qui abbiamo delle sepolture di parroci di Milano. Allora, praticamente, il primo di aprile. Il primo di aprile sappiamo cosa c'è prima di aprile. Ci sono gli scherzi, i pesci d'aprile. Ci sono gli scherzi, ci sono gli scherzi. Ma perché gli scherzi? Non lo so. Allora, praticamente, gli scherzi. Perché gli scherzi? Perché il pesci d'aprile si dice? Perché, praticamente, nei tempi della persecuzione dei cristiani, praticamente nei primi secoli d.C., nei primi, soprattutto tra cento secoli d.C., fino al 313, l'edito di Costantino, l'imperatore romano fa l'edito che libera il cristianesimo. Fino ad allora il cristianesimo era vietato. Perché? Perché c'era il culto degli dei pagani. E non si poteva avere il culto di Gesù perché il culto di Gesù non prevedeva il culto dell'imperatore come Dio. L'imperatore romano non era al pari di una divinità. Certo. E quindi questo non poteva avere il piacere. Vediamo l'inquadratura. Sì, benissimo, benissimo. Stiamo in quadratura. 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 In quadratura, benissimo. Allora, veniamo dunque. Per 300 anni i cristiani sono stati perseguitati. Come facevano, quindi, i cristiani a curare le loro tombe? Avevano estremamente difficoltà. Quindi, tra cristiani però, si usava un simbolismo, una simbologia. In questa simbologia c'erano due simbologie. La simbologia il pesce e anche il buon pastore. Il buon pastore era proprio una figura di un pastore come una pecora che in realtà raffigurava il buon pastore Gesù con le pecore che siamo noi. Però, solo i cristiani potevano capire che era relativo a Gesù. Perché non si poteva usare la croce. Perché quello simbolo cristiano per eccellenza non si poteva utilizzare. E quindi, naturalmente si usava il buon pastore. Oppure, i discepoli di Gesù, cosa facevano alcuni discepoli di Gesù? Facevano il pescatore. E quindi si usava il pesce, il pesce del pescatore. Quando una persona dei brutti pagani poteva capitare che denunciava un cristiano. Quando denunciava un cristiano, non è che lo denunciava così. Andavano a controllare la tomba. E magari, chi lo sa, lo facevano primavera in alcuni giorni pagani. E quindi anche il pesce legato alla primavera ai giorni pagani quando andavano poi a controllare le torbe per vedere se uno era, per esempio, appunto cristiano. E quindi cosa trovavano invece della croce relativa a Gesù? Quindi quella era una prova che era cristiano e venivano condannati. Solitamente venivano anche messi nei circhi, con le bestie feroci e venivano presi dai bestie feroci. Non so, sono terribili. Oppure venivano tagliate la testa, cristiani intenti. Quindi quello era un modo per capirsi tra cristiani senza mettere una croce. Quindi il pesce d'aprile nasce anche dalla simbologia cristiana per far intendere che sia cristiani senza l'evidenza della croce. Veniamo a Ophelia Romini. Ophelia Romini è una bambina vissuta nel periodo del novecento e praticamente finita prestissimo perché ai tempi non era certo facile, nel senso che c'erano molte malattie, c'erano molte situazioni. Mauri è venuto in qualsiasi, no? Ma si è venuto in quattratura. Si, si, ma si chiama tranquillamente. Si, no, lo sapevo. E chiaramente, stando al cimitero monumentale di Milano, oggi il primo aprile di 2017, Gennaro Giugnini, Vittuber Mauri e Antonio Barbagiura. Chiaramente noi veniamo sempre in posti che quando filmiamo c'è sempre quello che riuscite a capire, no? Quell'andaccio un po', ma però, come vanno le cose. Eh, certo, c'è sempre questo punto interrogativo. Si, sono un luogo un po' fuori da quello che è... Lo standard. Magari lo standard, oddio che si fanno, sicuramente. Però è un luogo che vanno. Allora, a fine di Milano, negli anni addietro, mi dicevano gli amici, ma dovevi avere qualcuno che ti aiuta? Io andai, quando andai anni fa a Roma, andai a visitare le catacombe e pregai di farmi avere anche qualcuno, che è benissimo nella facciata del mistero, nelle cose del mistero, farmi avere qualcuno in portazione in Italia. Guarda caso, capita una benvenza in feria, e naturalmente all'inizio uno non si è accorto assolutamente di avere uno spirito a punto di vita, poi successivamente si scopre che si ha qualcosa di oltre. Lo spirito guida, quindi dopo scopro Ophelia, anche Manuera. Una notte, la vedo, la vedo in casa e lei mi dice, non ci lasceremo mai comunque. Ophelia mi ha sempre promesso, io sarò tua figlia, perché io appunto credo nella rincarnazione, ci deve essere una rincarnazione. Sono temi difficilissimi di cui parlare, ma se dobbiamo veramente evolverci a livello culturale così è buono trattarne. Allora, in breve, un bel giorno poi, una bella notte, mi appare poi successivamente invece un sogno, quindi diversamente mi appare il sogno, una visione, prima una visione, dopo un sogno, e mi dice, sono Ophelia, venimi a trovare. Però io vedo che è dove sta Ophelia, il cimitero monumentale. Vengo qui, perché era nel sogno in quel momento, e invece vedo che Ophelia dormiva. Ognuno di noi può avere qualcuno che ci vuole bene, che ci sta vicino, gli spiriti guida vogliono sempre qualcosa in cambio, non dobbiamo eluderci che facciamo tutto gratuitamente. Nel caso mio, fortunato, lei sarà mia figlia, quindi è un caso fortunato, e nel caso dovrei vedere poi cosa porterà. Penso che registri bene. Sì, 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 bene, bene. E così, cari amici, oggi, primo aprile, un aprile 2017, nel mese 2000, in tutto il Mauro, dal cimitero monumentale di Milano, l'abbiniamo al discorso del Tempio di Duno, del Tempio di Medicina Italia, che ho fatto dei filmati, praticamente le persone, le medici d'Italia, le medici italiane che si sono avalsi, hanno fatto, questo paesino di uno in provincia di Varese, hanno fatto, praticamente, un tempietto, un posto dove è giusto pensare all'anima di chi ci ha voluto bene, comunque, un fatto che ci ha voluto concentrato, pensare all'anima di chi ci ha voluto bene. Naturalmente, come sempre, vogliamo un po' anche scolverare la tomba di Ophelia, essendo a Milano, è vero, c'è tanto smog, adesso abbiamo pulito, proprio, purtroppo, lo smog si mangia tutto. Speriamo anche, a livello qualitativo, ambientale, l'ambiente migliori e diminuisca tutto questo inquinamento. Facciamo bene, devo dire, facciamo bene ad andare a visitare, io e Mauri, io e Mauri, io e Mauri, capitano Barbadura, ad andare a visitare i luoghi abbandonati, perché, facciamo ragionare, sul pensiero altro del inquinamento, e del fatto di prendere di nuovo questi posti, di cercare di ristrutturarli. Chiaramente questi luoghi, ci accorgiamo, hanno sempre qualche problema giudiziario, questi luoghi abbandonati, e cosa succede? Che non riescono anche qualche motivo a riprendere. in realtà vanno riqualificati. Puoi andare anche per un discorso sociale, per un discorso anche di strutture non risistemare, e anche per un discorso di inquinamento. Ci rendiamo conto che anche a livello di inquinamento veramente si è fatta troppo. Sì, sì. Bene, buon primo aprile senza pesce. Però abbiamo raccontato la storia del primo aprile per com'è, veramente. Alla prossima. Alla prossima, un saluto. Leggiamo questo video al Tempio Vettivo del Medici d'Italia, che vengono a vedere. Poi vedrò meglio che tutto lo metterci per l'affinamento. Spero che piaccia questo video, perché comunque vedere inoltre non direi tanto interessante. è un po' doloroso. Nata il primo marzo 1901, morta il 6 marzo 1909. Un sorriso di cielo irradiava il tuo bel volto, e gli angeli ti vollero nel loro supremo amplesso. I genitori dolenti posero. Ophelia, eccola qua. Giuseppe Verdi, il grande compositore. Carlo Cattaneo dell'Unità d'Italia, i padri dell'Italia. Alessandro Mangioni, scrittore e anche, dopo l'Unità d'Italia, senatore d'Italia. Siamo al famedio, detto famedio, del cimitero monumentale di Milano. E qui abbiamo anche, tra le varie, Luca Beltrani, architetto. Oggi sono con il youtuber Mauri Capitano Barbadura. Stiamo iniziando a caricare i video su YouTube. Abbiamo problemi di corrente, di batteria. Eh, la connessione è sempre. Le connessioni e tutto. Non mi connette. No, la connessione è in internet, dai. Sì, con la battuta, così. Ora niente, che facciamo? Ti riprendo e poi... Sì. Perfetto. Tanti saluti, cari amici. È stata... Sono delle belle cose da far vedere. Fa parte della nostra storia, della nostra fede, delle nostre belle cose. Ci voleva una giornata qua. Bene, alla prossima. Ciao, cari amici. Ci vogliamo vedere. Ecco... Possiamo anche... ...metter qui. Guarda. L'architetto Luca Beltrami ci regala... Un bel... Ciao, cari amici. Bellissima giornata. Anche oggi siamo arrivati ormai... Adesso è il primo di aprile 2017. Genaro Gemuri, youtuber Mauri. Ancora una volta a far vedere ciò che mi piace, ciò che è giusto far vedere. La nostra storia è la nostra cosa bella. Alla prossima. Ciao. Ciao. Con il nostro... Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi? Giuseppe Verdi. Scemiare ghi Brecen씨 di quellaREY. Giuste Rijone. Ciò che è meglio dire carrot anti..? Erin pentolenta.